Ad Alessandria una seduta della Commissione Consiliare e Sviluppo del Territorio è stata dedicata alla situazione di alcuni centri sportivi storici come la piscina comunale scoperta di Lungotanaro San Martino con annesso Palazzetto dello Sport e Palacima, il nuoto club che ha la piscina coperta, il circolo Barberis ed il campo di atletica. E' stato emanato un bando con un nuovo avviso esplorativo per cercare di mettere insieme una specie di partnership tra pubblico e privato. Questo è solo l'ultimo tentativo dopo tutti i precedenti bandi emessi dalle varie amministrazioni del Comune di Alessandria che si sono succeduti per anni e sono andati quasi tutti deserti. Non si è riusciti a trovare un gestore in grado di farsi carico delle enormi spese per riaprire soprattutto la piscina scoperta di Lungotanaro San Martino. Per alcuni siti ritenuti importanti, strategici per questa comunità la ricerca di ricorso ad una formula che è quella del partenariato pubblico privato perché, e lo dico molto succintamente, perché riteniamo che sia un percorso, una strategia che possa valorizzare, che possa rendere più prestigiosi e soprattutto che sia sostenibile sotto il profilo economico finanziario e sotto il profilo progettuale appunto per la valorizzazione, per il mantenimento, per l'arricchimento sotto vari aspetti di alcuni siti. La vera rivoluzione culturale presente in questo bando è che la piscina potrebbe andare in affitto senza l'obbligo di riaprire le vasche, quindi senza l'obbligo dell'attività natatoria. Che questa di riaprire la piscina comunale scoperta sia una mission impossible lo dimostrano anche le immagini che hanno girato alcuni cittadini che sono riuniti sotto la sigla Svegliati Alessandria che mostrano le condizioni terribili in cui si trova in questo momento la struttura.